ciao e bentornati a crochet romance oggi vi voglio fare vedere l'ultimo arrivo e si tratta del filato marron glacé di silke by arvie come vedete si tratta di una chicca veramente particolare un filato con le paillettes a goccia che come vedete sono veramente molto presenti non sono pochi infatti ho guardato il filo e le paillettes sono distanziate di circa dico a occhio dieci centimetri l'una dall'altra e sono a distanza regolare si tratta di un filato peloso ad effetto diciamo mohair e con il quale i vostri lavori cresceranno veramente velocemente ho fatto la prova a lavorarlo sia all'uncinetto che ai ferri e devo dire che ovviamente io preferirei lavorarlo ai ferri perché abbiamo un filato veramente molto molto peloso e quindi con l'uncinetto si fatica un pochino a lavorarlo però come vedete con un po di pazienza si riesce comunque ma prima di farvi vedere la lavorazione voglio dirvi la composizione del filato e tutti gli altri dettagli utili e farvi vedere i colori allora il gommitolo e da 50 grammi e sviluppa 110 metri e si consiglia di lavorarlo con i ferri del 6 o del 7 abbiamo una composizione al 20 per cento di alpaca 15 per cento lana 34 per cento poliamide 10 per cento poliestere e 21 per cento acrilico quindi vedete il mohair non è neanche presente però a vedere il filato sembra un filato mohair quindi abbiamo il calore della lana alpaca unito a la lana classica con una percentuale di poliestere poliamide e acrilico quindi un mix di fibre naturali e sintetici le gocce sono argentate tipo ad effetto specchio e qua nel colore nero si vede molto bene abbiamo una parte lucida all'interno e poi la lana all'esterno quindi abbiamo il colore nero il grigio chiaro poi abbiamo il marroncino bellissimo e infine il biancolatte tutti questi colori sono attualmente disponibili nel mio negozio online quindi andate a vedere sul sito www.filatiromanze.com per scoprirlo allora un esempio all'uncinetto vedete che ci possono dare un po fastidio sia le paillettes che la pelosità del filato quindi io sto lavorando adesso con un uncinetto numero 6 e ovviamente non si va velocissimi proprio perché abbiamo la pelosità del filato e le paillettes però con un po di pazienza se non sapete lavorare ai ferri potete usare questo filato anche con l'uncinetto e più o meno il risultato sarà così a maglie alte mentre con i ferri devo dire che ho trovato due pregi lavorando questo filato ho lavorato con i ferri numero 7 e per prima cosa ho notato che il lavoro non si arrotola io qua ho fatto solo una maglia di bordo e ho lavorato il resto a maglia rasata normalmente su un lavoro così piccolo il lavoro si sarebbe arrotolato tantissimo nei bordi quindi invece grazie alla pelosità di questo filato non ci serve neanche fare grandi lavori per il bordo perché mantiene veramente bene la sua forma quindi potremmo anche pensare di fare una sciarpa tutta maglia rasata senza problemi e inoltre un altro punto interessante di questo filato è che cresce velocemente e si lavora facilmente anche con i ferri il risultato è come dire leggero ma caldo allo stesso tempo e arioso quindi sono molto contenta del risultato e poi come dire per me non hanno risparmiato sulle paillettes veramente sono tante e quindi creeremo un capo finito veramente molto lucicoso molto brillante molto elegante vedete si lavora senza fatica ai ferri adesso per ultimo vi dico ancora le quantità consigliate per una taglia 48 per fare un maione o un gilet ci serviranno circa 350 a 400 grammi di filato per una taglia 42 basteranno 200 a 250 grammi per un bimbo da 10 anni fare un maione calcolate 100 a 150 grammi il lavaggio di questo filato deve essere assolutamente fatto a mano e se volete fare un campioncino abbiamo 14 maglie su 20 ferri che ci fanno i 10x10 cm di campione spero che questo piccolo video di presentazione vi sia piaciuto e mi auguro che andate subito ad ordinare il vostro colore preferito nel negozio e noi ci vediamo prossimamente con tantissime novità iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento sotto a questo video e noi ci vediamo quindi prossimamente ciao